Il mio impegno come consigliere provinciale è finito quest'oggi. Stamani ho rassegnato le dimissioni. Lo ha affermato Mario Agnelli, sindaco protempore di Castiglion Fiorentino, durante l'incontro che si è tenuto questa mattina nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. La decisione l'ho maturata dopo la tragedia di Genova, ha spiegato. Due anni fa ho accettato con entusiasmo questo nuovo incarico, speranzoso di poter portare il mio modesto contributo, ma ho constatato che è stata un'esperienza inutile. La provincia, così come è strutturata, non porta benefici a nessuno. È una scatola piena di responsabilità, ma vuota di risorse economiche, che va avanti solo grazie all'impegno dei dipendenti, ha continuato il sindaco di Castiglioni. Sono 1.300 i chilometri di strade, 700 i ponti e numerose le scuole di competenza provinciale, senza che tuttavia i fondi siano sufficienti. Purtroppo di Ponti Morandi ce ne potrebbero essere anche in questa provincia, ha spiegato Agnelli, che poi ha ricordato l'esposto cautelativo del presidente Roberto Vasai dello scorso 22 marzo, nel quale diceva che non c'erano i soldi per mettere in sicurezza strade e scuole. Poi si è soffermato sull'approvazione del bilancio 2017, con il parere negativo dei revisori dei conti. La riforma delle province ha procurato solo disguidi e impedimenti. Un ente pubblico senza capacità di azione è un ente inutile e si trasforma, con le elezioni di secondo grado, in un ambiente di addetti ai lavori, lontano dalla gente. Agnelli ha poi voluto sottolineare che c'è apprezzamento per i colleghi di banco per l'impegno che hanno profuso in questi mesi, e rispetto per il presidente Vasai e per gli altri consiglieri che hanno dedicato il loro tempo alle istituzioni. E che in vista delle prossime elezioni provinciali, il Comune di Castiglion Fiorentino valuterà quali posizioni assumere.